Infatti vedo che tra i ragazzi c'è molto più interesse adesso, magari con l'avvento di TikTok, anche Andrew Tate penso che abbia incentivato parecchio personaggio Vero? Cioè pensi che Andrew Tate abbia incentivato diciamo? Sì, diciamo che lui a suo modo ha dato un contributo Lui punta sulla mascolinità Infatti anche ora su TikTok te vedi tantissimi ragazzini giovani malatissimi di palestra, cioè proprio come se ora ci fosse un trend Assolutamente sì, questo è positivo, come dicevo prima purtroppo il ragazzino giovane non si rende conto di essere un punto di riferimento Cioè il ragazzino di 19, 18, 17, 18, 19, 20 anni che comunica e ha tanto seguito, tra l'altro verso chi? Verso i 12, 13, 14 anni Quindi proprio il ragazzino ragazzino non si rende conto di avere tante responsabilità Perché i social alzerano qualsiasi barriera di età Cioè tu quando sei un creator non hai un'età Tu proponi un contenuto che può arrivare a tutti Poi chiaramente si classifica Si indirizza verso una fascia d'età in funzione di quello che tu comunichi del contenuto Ma la tua creazione può arrivare potenzialmente a chiunque Automaticamente Un creator di 20 anni Anche solo a livello comunicativo Arriva a ragazzini molto giovani E si sta andando secondo me su aree È pericoloso secondo te Non troppo belle Nel senso il discorso doping nel bodybuilding c'è sempre stato Ed è sempre stata una questione che va trattata con molta serietà E con molta specificità Ah è vero, su TikTok vedo si parla di trembolone Tutto proprio in maniera libera Allora, quando chiedono Questa cosa non l'ho mai detta ma ci tengo a farlo qui Quando mi chiedono Andrea, perché non parli di doping in maniera tale che puoi fare formazione Puoi spiegare realmente ai ragazzi giovani i rischi Io non parlo di doping Non per una questione di omertà Perché penso di essere la figura meno omertosa nel nostro ambiente che ci sia Ma perché quando hai a che fare con un pubblico vasto E tu non sai chi c'è dall'altra parte del telefono, del computer Può essere pericoloso Deve avere una modalità comunicativa il più sicura possibile Questo cosa vuol dire? Che se io dico questa frase Ragazzi mi raccomando Io vi sconsiglio assolutamente di utilizzare il doping Anche se volete gareggiare Scommentiamo che il 40% di chi mi ascolta sente Dopo ingareggiare prestito Però non pensi che se viene trattato come un tabù Questo argomento è ancora peggio Perché c'è disinformazione E quindi è per quello che ad esempio Io ho uno staff medico Che sta parlando di questo Ma da un punto di vista professionale Io ho dei medici che si occupano del discorso Doping, farmaci Legati comunque al mondo dello sport Non solo al bodybuilding Vedi il caso Pogba Vedi il caso della tennista Sì ma c'è ne tanti Ciclismo anche Ciclismo Che ti spiega Questo farmaco ha questa funzione E crea questi problemi In maniera precisa Tu non puoi fare un tabù Ma non puoi neanche fare un discorso generale Non dopati il punto Anche perché poi è proibito Metti quasi più curiosità Bravo è vero Perché ciò che tu identifichi come proibito Attira Sempre così E questi ragazzini Che ormai hanno nella modalità comunicativa Solo meme sul treno Sì sì Una roba incredibile Stanno portando a far sì Che ragazzini di 14 anni Sanno cos'è il trembolone Io ho 14 anni Non sapevo cosa fosse Io scusate cos'è il trembolone Non lo so Sono una sostanza topante Ok Arrivano a saperlo Questa cosa non va bene Perché io Sono arrivato a conoscenza di alcune cose In età più avanzata Con un bagaglio Esatto Di vita E culturale E di maturità Tale per cui Posso essere più pronto Ad affrontare certi temi Ma un ragazzini di 13 o 14 anni Che sente questa cosa E sente che tutti I creator Che parlano solo di quello Sarà Portato A fare attenzione O esserne attratto Esserne attratto Per forza E' un ragazzini di 14 anni